Per ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Livelli essenziali di assistenza, Toscana i primi posti nella classifica nazionale, Green Pass obbligatorio per i consiglieri, vaccini insediata alla commissione d'inchiesta, nuova strategia dell'economia circolare. Una grande soddisfazione perché oggi viene pubblicata sui principali giornali quello che è lo schema con cui il Ministero valuta il livello di welfare state, di stato di assistenza della sanità, viene chiamato livelli essenziali di assistenza delle regioni italiane. E su questo, sulla base del punteggio, vengono erogati anche finanziamenti premiali da parte del Governo e per noi naturalmente ossigeno. Ai primi tre posti con 222 e 221 vi è Veneto, Toscana e Emilia Romagna e sono le tre regioni che quindi godranno anche di un livello di incentivo maggiore. Ci sono sei regioni a rischio e il resto appunto nel centro. Ormai questo ci conferma che la sanità pubblica della Toscana si configura fra le tre più importanti in Italia e sono contento che questo avvenga con valutazioni che sono state fatte nel pieno del periodo Covid e nel post Covid. Del resto noi lo vediamo, la Toscana è al secondo posto, la Fondazione Gimbe ne rende ragione ogni giorno per quello che riguarda l'espansione della vaccinazione di prima dose. siamo oltre il 77% e appunto l'essere secondi ci configura una situazione anche di maggiore tranquillità verso ora l'apertura dell'anno scolastico. Dobbiamo essere i primi a dare il buon esempio. A dirlo era stato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che aveva espresso la volontà di rendere obbligatorio il Green Pass per entrare in aula e così è stato. Era un impegno che avevo preso, credo che noi per primi dobbiamo dare segni di responsabilità verso l'esterno e sono contento che tutti i colleghi oggi presenti in Consiglio regionale abbiano partecipato utilizzando il Green Pass. In quel regolamento siamo andati un po' oltre, diciamo che tutte le riunioni che vengono effettuate all'interno del Consiglio regionale, chi parteciperà dovrà essere munito di Green Pass. Credo che sia una delle posizioni più avanzate in questo momento, ringrazio tutti i gruppi politici per aver supportato questa proposta e credo che ognuno di noi deve fare la sua parte. Il tempo di ridare alle persone la libertà e quella libertà passa attraverso la vaccinazione. Qui sotto c'è una manifestazione da parte dei Novax, devo dire che è giusto che ognuno possa esercitare il proprio diritto al dissenso ma non con insulti, minacce. Ho visto dall'altro anche un segno che è rappresentativo della furia nazista, e paragonare i vaccini che sono libertà a quel simbolo è qualcosa davvero di sgradevole, di grave, ma noi non ci fermiamo, le loro minacce non ci fanno paura. Penso che oggi noi abbiamo un grande compito, che è quello di cercare di restituire ai cittadini la piena libertà e può passare solo attraverso i vaccini. Vi dico due numeri che per me sono fondamentali. In questa settimana ci sono stati 23 persone che purtroppo sono andate in terapia intensiva. Di queste persone 20 non erano vaccinate e diversi di loro avevano meno di 40 anni. Ecco, io penso che questo, se i numeri parlino, contino, noi dobbiamo continuare con forza questa campagna vaccinale e non saranno certo le urla o le minacce qui sotto che non ci faranno andare avanti, spediti in questa direzione. Si è insediata la commissione di inchiesta finalizzata alla verifica del corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 ed in particolare della campagna vaccinale in Toscana. Eletto presidente Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia. Sicuramente non circoscriveremo la nostra attività su quello che è la campagna vaccinale, ma ci occuperemo a tutto tondo della gestione della pandemia. Sarà quindi possibile, attraverso il lavoro di questa commissione, ricostruire i passaggi più critici o quelli che sono rimasti ancora senza una risposta verso la comunità toscana che ci hanno interessato negli ultimi due anni. Questa in due direzioni, da un lato per fare pienamente luce e trasparenza su quelli che comunque sono stati i passaggi di ordine amministrativo e dall'altra parte per sostanzialmente evitare che in futuro, anche attraverso una ricostruzione, diciamo, in attività costruttiva di questa commissione, non si possano impedire e verificarsi di situazioni come quelle che abbiamo vissuto. La discriminante è che col passare del tempo abbiamo visto che mentre una commissione non si è nemmeno insediata, questa potrà cominciare subito i lavori. È il modo con cui Fratelli d'Italia si appresta a far politica sostanzialmente. Credo che sia per i tempi che per le modalità questa commissione in realtà potrebbe essere efficacemente riassunta nel lavoro che la terza commissione sanità sta conducendo da tempo. Noi siamo mesi che audiamo l'assessore tutte le settimane che ci viene a riferire sull'andamento della campagna vaccinale e tutti i commissari hanno modo di interloquire con lui e con tutti i tecnici dell'assessorato. Ovviamente non abbiamo niente da nascondere, siamo assolutamente disponibili ad approfondire tutti gli aspetti sui quali le forze dell'opposizione nutrono ancora dubbi. Io credo che i numeri parlino chiaro rispetto all'efficacia della campagna vaccinale in Toscana e quindi gli argomenti ci sono tutti. La nostra disponibilità è chiaramente quella a un confronto purché sia serio nel merito e delinei, secondo me, oltre ai dubbi anche gli ottimi risultati che la regione ha conseguito. La commissione di inchiesta non l'ha richiesta il Partito Democratico, l'hanno richiesta le forze dell'opposizione e quindi alla prima riunione dell'ufficio di presidenza vorrò capire su quali aspetti deve concentrarsi. Ricordiamo che la commissione ha una durata di tre mesi più tre, quindi un tempo anche piuttosto ridotto. Nel frattempo la commissione tre sta continuando a lavorare, quindi onde evitare inutili sovrapposizioni e dare efficacia a questo strumento. Il presidente per primo ci dirà come vuole procedere e chiaramente come vicepresidente ma anche come rappresentante del Partito Democratico porterò le mie osservazioni. Secondo noi questa commissione ha un compito molto importante, non solo quello di far luce su quello che è accaduto durante la gestione della pandemia, tutti siamo al corrente che alcune categorie hanno avuto un accesso privilegiato ai vaccini, ma anche quello che è stata tutta la gestione dei dispositivi di sicurezza, delle risorse su come e dove sono state stanziate e non ultimo anche il famoso piano pandemico che a tutt'oggi a noi, dietro richiesta di accesso agli atti e interrogazioni, non risulta pervenuto. Quindi avrà un grande compito questa commissione, non solo riguardo ai vaccini ma un po' a tutto il mondo della sanità perché è notizia di oggi che alcuni medici del pronto soccorso si sono dimessi per le condizioni di lavoro massacranti. Io credo che la commissione debba svolgere un ruolo investigativo piuttosto pesante perché ci sono tante criticità su questa gestione della pandemia e la situazione di pronto soccorso è una evidente conseguenza. Non arriva troppo tardi perché non siamo ancora usciti dall'emergenza Covid, tant'è lo dimostra che siamo ancora tutti qui con la mascherina, che fuori ci sono delle persone che protestano contro i vaccini, non è ancora tornata alla vita normale e il rischio di una ricaduta c'è comunque. Si spera che la Giunta abbia imparato dai propri errori ma il compito nostro è quello di fare il nostro lavoro fino in fondo, cioè di trovare le criticità e capire chi ha sbagliato nella catena di comando perché non si ripeta. No a nuovi termovalorizzatori, no a nuove discariche, sia alla costruzione di una vera e propria industria dei rifiuti che sappia stare sul mercato. Questo in sintesi l'approccio del nuovo piano dei rifiuti in Toscana, illustrato dall'assessore Monia Monni che si incardina nella normativa sull'economia circolare. Tra le novità anche la costruzione di una vera e propria industria dei rifiuti e lo strumento dell'avviso pubblico per grandi gestori pubblici e privati. Si tratta di una sfida prima di tutto culturale da affrontare con attrezzi nuovi, se così si può dire, che il piano vuol prevedere ma anche recuperando abitudini vecchie che erano quelle dei nostri avvi che avevano appunto l'idea di non gettare niente di ciò che poteva essere riutilizzato e continuare ad avere una utilità. Questo piano sarà un piano che dal punto di vista della dotazione impiantistica vorrà utilizzare anche nuove e moderne tecnologie per superare, e la cosa doveva essere anche già avvenuta più di quanto lo è oggi, l'utilizzo delle discariche per limitare al massimo l'utilizzo dei termovalorizzatori, per trovare invece le modalità per cercare di riciclare, di riutilizzare il più possibile di quello che fa parte dei rifiuti. Ovviamente ci sarà anche una modalità nuova, un approccio che rende questo piano assolutamente non di ricista, perché attraverso un bando saranno raccolte anche delle disponibilità, delle proposte provenienti da aziende pubbliche e private per la realizzazione di impianti di smaltimento e di riutilizzo. Ovviamente questo non vuole assolutamente dire che c'è una cessione nei confronti del cosiddetto mercato, di quella che invece è una modalità e è una prerogativa che deve rimanere saldamente in mano alla regia pubblica. Tutti coloro secondo me che vogliono fare impresa e che vogliono riportare a vivere dei prodotti che altrimenti avrebbero un fine vita, secondo noi devono essere valutati attentamente con le nuove tecnologie, ovviamente con progetti che siano validi, perché comunque il campo di rifiuti, come abbiamo visto, è un campo molto pericoloso dove le infiltrazioni, spesso anche mafiose, trovano il loro spazio e purtroppo l'hanno trovata anche in Toscana nei rifiuti speciali, quindi con tanti controlli, ma noi crediamo che qualsiasi oggetto che può tornare alla vita deve tornare alla vita e quindi se in questo processo ci aiutano i privati sono i benvenuti. Più che il piano di rifiuti si tratta di un piano dell'economia circolare, è un'inversione di tendenza positiva che cogliamo con grande favore, che sosteniamo perché siamo convinti che la Toscana debba essere una regione innovativa in temi di rifiuti, non soltanto nella raccolta differenziata, gli obiettivi che ci si pone sono ambiziosi, quelli dell'85%, qualche comune è già in grado di farlo, quindi sono obiettivi realistici, plausibili, possibili, realizzabili e poi serve riciclo, serve ovviamente riutilizzare la materia, fare economia circolare, colgo un elemento di grande positività, si va verso la chiusura delle discariche e allo stesso tempo verso la possibilità che i privati possano giocare una partita importante dentro una manifestazione pubblica di interesse che deve essere svolta a livello regionale e con procedure semplificate per quanto riguarda anche l'approvazione del prossimo piano dei rifiuti. Quindi vedo in questa comunicazione degli elementi positivi che tra la via sosterrà, monitorerà e soprattutto cercherà di rendersi protagonista per intercettare le risorse comunitarie per fare in modo che poi questo che è orse oggi visto come il libro dei sogni possa diventare realtà. La comunicazione è stata estremamente stringata e c'è da dire una cosa in positivo, che la maggior parte dei principi, delle linee guida che sono esposti riprendono pedissequamente quello che noi per cinque anni come Movimento 5 Stelle abbiamo sostenuto riguardo l'economia circolare, l'ambiente, gli inceneritori, le discariche, quello che insomma ci chiede l'Europa e poi ci sono tutti i lati però negativi, il netto ritardo con cui è arrivata questa comunicazione e sta arrivando il piano rifiuti perché queste sono ancora soltanto delle linee guida, il fatto che ancora ci sono dei fumosi e preoccupanti riferimenti ai termovalorizzatori, anzi chiamiamoli inceneritori, così come vengono detto quando si parla di tecnologie alternative con cui fare la fase di transizione e soprattutto non c'è stato detto le metodologie, i dati, i parametri e i risultati da raggiungere e in quanto tempo. Quindi questo a noi sembra ancora purtroppo un libro dei sogni quando in realtà la Toscana da tempo sta aspettando un piano rifiuti serio che contribuisca davvero alla transizione ecologica, all'economia circolare e soprattutto non secondario ad abbassare le tasse su rifiuti a tutti i cittadini. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, vi ricordo che Cronache e Commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.